Erano stati chiamati a raccolta tutti i deputati nazionali eletti in Sicilia, ma non si è presentato nessuno. Stiamo parlando della conferenza sulla legge di stabilità che si è tenuta stamattina nella Sala Bonaventura organizzata dal Forum regionale del Terzo Settore. Ma questa la dice lunga della sensibilità dei nostri parlamentari ai temi sociali, che sono i temi che stanno a cuore al Forum regionale del Terzo Settore. Il Forum raccoglie e organizza più di 30 delle associazioni maggiori di volontariato di promozione sociale e della cooperazione sociale. Immaginiamo che siano stati impegnati. Noi non ci arrendiamo. Andremo a trovare, comunicheremo loro quali sono le nostre proposte, perché chiediamo che le proposte del Forum possano trovare cittadinanza in Parlamento nazionale. Quali sono le proposte, quindi cosa chiedete? Noi chiediamo che i principi e i valori della solidarietà e del rispetto a dignità delle persone vengano messi al centro. Quindi vogliamo che vengano rimpinguati i fondi per la non autosufficienza, il fondo sociale, il fondo per l'adolescenza. Il portavoce del Forum ha illustrato alcuni dati. I dati sulla povertà relativa e i dati sulla povertà assoluta del luglio di quest'anno indicano che la Sicilia, non so se dobbiamo dire al primo o all'ultimo posto, comunque abbiamo, la povertà incide in maniera percentuale molto più di tutte le altre regioni. Preoccupante la situazione nella nostra città. Il governo sta sperimentando la social card. Dai dati che noi ne ricaviamo, Catania è la città italiana dove si è presentato il più alto numero di domande per accedere al beneficio. Quindi il rapporto tra le domande che saranno accolte e le domande che sono state presentate è la più alta di tutta Italia. Questa ce la dice lunga su qual è la reale situazione catanese. Di Natale ha lanciato un appello alle istituzioni. Quello che noi rivendichiamo, quello che noi chiediamo è che ci sia un impegno da parte delle istituzioni che non deve essere di solidarietà ma deve essere di intervento concreto affinché si dia una risposta alla deprivazione. Non deve apparire una battuta. Deprivazione è non riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena e noi in Sicilia viviamo anche questa condizione.